56. Fa porre in atto Dizionario del Cerchio Firenze 77 A cura di VB Allucinogeno Vi sono degli stregoni o persone dedite a pratiche occulte che fanno ricorso ad allucinogeni e via dicendo Ma non dovete pensare che certe droghe diano le facoltà occulte o i poteri paranormali Pensate piuttosto, in modo giusto che certe creature hanno allo stato potenziale dei poteri occulti delle facoltà paranormali che l'uso di qualche droga fa porre in atto limitatamente al periodo in cui dura l'effetto della droga Cosicché, se un qualunque essere che non avesse queste facoltà allo stato potenziale assumesse, ingerisse le stesse droghe che fanno diventare veggente altri egli non lo diventerebbe affatto 141 G Gli non lo diventerebbe affatto